salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di aluric bene andiamo a continuare da dove eravamo rimasti c'era un bel casino insomma sì per vedere cosa fare e insomma per me è tutto nuovo non ci ho mai giocato a sto capitolo eccoci qua eravamo arrivati che stavamo facendo un casino come al solito allora vediamo un pochino c'era comando sport il cortile sgombro passo ragazzi portate via l'entrata principale est vi informeremo comando sport vedo un sistema di puntamento supporto d'artiglieria in zona io prenderei questo limitato ma daremo priorità alle vostre richieste questo usa anti artiglieria prenderlo per forza parca vacca volevo l'altro e vabbè pazienza faremo con questo ecco 57 stiamo rientrando alla base ma abbiamo nemici ore 6 passo vediamo come funzioni stuposo ecco qui oppla un po via un attimo eh ma io mi sono esportato che raggi c'ha porca miserica ma se non le vedo le cose una volta bisogna che daremo priorità alle vostre richieste insomma dai via l'anno orato scusate tanto allora mi metto qua sto appunto non lo sciò 3 ecco 5 6 stiamo rientrando alla base ma abbiamo nemici ore 6 dai sono preciso ok adesso dobbiamo metterci qua abbiamo arma devo prenderla per a te ah il cazzo ma risposto ti ringrazio ci è stato proprio gentilo e vabbè è credito questa adesso l'appunto ma quanti malettoni che siete so ecco quali di ambito attico ma che abbiamo albato di colazione e siamo a posto io ho fatto quello che dovevo fare mi ha detto anche fantastico basta queste cose mi cade in testa si non mi trasportare in testa aspetta un attico va mi cade in testa oh il trasporto come la vedo brutta lo sapete vabbè scelizionate tutti la vecchia Faragot Station ha un sistema di comunicazioni potremmo contattare il comando l'Airview Base ha una batteria contraerea ci sgombrerà il centro la postazione antiaerea è a ovest il trasmettitore è a est quindi dove dobbiamo andare a est o ovest andrò a est dai andiamo di qua penso sia a est sud ovest davvero mi porto dov'è intanto mi diranno non dice un cazzo come guido bene eh porca miseria c'è il corso dietro qua non ci vai eh scomma e porca miserica hai fin... eh oddio ce l'ha fatta mamma mia non c'è niente da fare posso giocare a qualsiasi alo ma di guidare se è processo scontro ecco qua vai vai c'è anche l'altro dove vai mi carica allora c'è poi quindi siamo una direzione che mi gusta mi cazzo sparo ma una sorgente energetica siamo vicini alla portazione oh meno male mi dicevo aspetti un attico no non rompico aspetti un attico aspetti un attico ma che questi mi sono piaciuti un sacco che l'uno se ne fa più sciato da panico oh lo sapete perché mi piace perché questo volo questo volo questo plana questo può andare col turbo questo può sparare e va dove vado dove voglio io questa è la cosa migliore allora lo vediamo pure ok speriamo di non fare cacate nel senso ci ho messo un abbonato quindi farò sicuro questi sono i miei suoni non si capisce il cazzo secondo me sui suoni così a naso così a naso poi dopo opla quante ce mi serve questi po' mi stanno sfragannando o io ti sto dando un sacco di roba qua e i possetti che mi vengono anche da sui miei ma tutti voi è incredibile avete rotto il cazzo voi eh ecco ecco mamma mia mamma mia ma sono fortissimi quante ce le vogliono di la creatura per romperne uno tante oh i murosi questo non ci arriverò mai non ci arriva non lo assegna troppo non penso mi faccio del male vabbè dove devo andare? andiamo all'alto ah andiamo all'alto poi c'è per cambiare poco per l'arma che cazzo è questo? tappa l'informazione sull'arma è distrittibile quando attiva non ci ho capito un cazzo selezioni ah ok adesso ho capito eh scusate se ho messo un po' non l'avevo mai visto questo mi fa così no preferisco scusate oddio eh armi perfetto così cambiamo sto coso che non lo volevo per chiudere ma questo devo cambiare questo quando ci si mette proprio strotto allora premia per cambiare arma è arma questa e non ci fa l'arma non la faccio eh vabbè eh ragazzi che vi devo dire blocco armatura c'è un trigger con un codice un cazzo vabbè starò con questa che vi devo dire ci posso fare un cazzo ma niente mi da solo blocco armatura vabbè andiamo avanti potresti stare qui a perdere tempo che ho cialve ho detto cialve vabbè devo dire cialve vabbè ho detto altra cosa allora dove devo andare? ah ma devo andare qui cioè devo andare devo vedere qui e questi sono quelli di prima niente devi dire che devo andare di sopra attivare qualcosa qui sotto e attiviamo eh c'è una gratia adesso non mi va gratia eh ma chi è che mi spara attivazione oh adesso me lo fai prendere si erano da tutti i santi ovviamente ho sbagliato l'arma e c'è una pirla ok eh questo è un cattivone io vorrei ho preso il volo sono stato bravo eh cosa devo fare oh ecco qui ho fatto ecco l'ho fatto non era tanto chi è? ah spara questo bello mi piace oh mi piace tanto si parla ora alla Faragood Station fate tornare operativo per 32 ok si parla che ne dite di usare un po' di artiglieria mobile oh preferivo l'auto preferivo questo scusate ma ci sono affensionato eccoci qua andiamo pure artiglieria mobile un po' di artiglieria mobile si è contento va questo è sì va che riesce a capire niente un pochino ci devo ancora prendere un po' la mano sono passati sei mesi l'ultima volta che ho giocato quindi mi sono capito paziente e gioco a tanti giochi eccoci qua aspetto un attico a te non mi piace più il castle lo sai ok ok si è caduto il muro mi si è piaciuto mi è caduto il muro però che è caduto il muro e beh non mi è dato male male ci ho superato anche checkpoint per te proprio scorto due porti stai distratto spraganando la miseria che fa tutti i tiri non c'erano i tiri mi è spettinati i trovati e non mi piace molti ok mi è gioco bello perchè non si scaldano dove va mi è partito la capsula lì scusate se per dire devo provarmi eccoci vedete come è bello giocare con questo è più facile ok dove devo andare? devo andare di qua mi sta facendo i fumi di fiammi non è che mi devo buttare no in acqua non c'ho voglia adesso il bagnetto lo faccio dopo andiamo di qua noi andiamo di qua noi andiamo di qua si dimmi quale io ho il pistino speriamo ci sia un generatore funzionante ah va bene e no 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 mi hai fatto imboscata brutto animalo oh io ti sto spagherna mi riprendi lì eh brutta cosa che ti ho proposto brutta brutta eh felico continuare a sparare che ti ho detto lo prendo oh ma lei è astrusa è meglio è proprio proprio mio mamma mia che buota che mi ha preso che buota che ti ho preso oh porca vacca eh scendono un brutto c'era quel cazzo di sasso di merda eh mi ha fatto girare bene eh vabbè pazienza proviamoci si si c'è un nevoco di balone ok ci sto prendendo sempre oh così va molto meglio ok ok lo sto prendendo sempre perfettissimo no no così va molto meglio dai bisogna prenderla con calma con strategia se no andare alla ravola si deve essere faccione non è proprio calma oh ragazzo sembra ragazzo sembra un uomo ecco perché c'è perfettatore maledetto qui ok continui qui ok vedete che va molto meglio così eh bisogna prenderla con calma ok gli ho tolto lo scudo ma non mi ha servito tanto ok uno è andato e l'altro sta andando eccoci qua vedete molto più semplice così rispettiamo l'avacolo oh di dio se no si dati quel soldo lo prenderla mi ha fatto prendere un colpo? rispettare un attico che mi sceme là non lo trovo oh l'ho trovata eh mi fa piacere per lui io lo attiverei sto coso eh ok ti va e vediamo Radar se mi dice qua come sono cazzo perché secondo me devo andare la mi va anche bene andare la eh ok generatore di nuovo operativo troviamo il trasmettitore sarà in alto ok devo andare adesso corro per calma mi sceme un po' è poco mobili insomma eccola qua vediamo di sopra va bene questo della corsa mi piace questo lo prenderei sono a postolo copertone copertone oh salve mi hanno fatto prendere due colpi e mezzo eccoci questo è andato a oh salve lei potrebbe morirci grazie come gentilo e temuroso nei miei confronti eh ma fatti dei scelti ma lei è stato bravo però eh ok io direi che guarda come sono anche fattuto ok perfetto rimasco un po' un altro evidentemente si ok ok eh ma mi droppate tante cose ma sta gente qui che salta così di provviso sono dei salterini per la miseria eh salve è stato bello non ce l'avevo porca ma eh grazie ma è stato gentilissimo eh una cosa così insomma non me l'aspettavo una visuale migliore innatico ma dammi dammi un'ansia questa qui oh santa miserica mettiamo pure e siamo arrivati ok usate per i film insomma devo vederlo almeno una volta pericolo scusa scusa ho un revenant cattacce l'hai fatta 6 trasmettitore operativo ah che c'è la scusa ok ok che rilassata no mi deve sto bocchino qua ok andiamo alla sword base spero che sia questa la strada se devo tornare indietro fate la buona figlio di verde oh ma qui stiamo proprio nell'olio corvette covenant in avvicinamento no ma porca ma scendi da sto posto venite subito qui ci vediamo dentro ok non sono stato io guardate lì proprio sabbiato di brutto sciali scialisci vai dietro bravo di dio che almeno spari qualcosa oh meno malo scendiamo un po c'è proprio come camminare sull'olio già gli ha fatto un colpo da panico ah ma c'è un spara cannoni questo ah cacchischio guarda lì che roba c'è boi oh ma dà delle cannonate da panico è una tirata di ah aspetti un attico va eh valla che sembra si però insomma vediamoci un attimo intanto questo qui è lì che si diverte vorrei prendere un attico ok vedendo eh mi è venuto addosso non si fa così eh cazzo insomma non l'aspettavo allora è un casino devo ancora capire come fare magari andando piano e devo prendere con più un farsimonia le tragedie tattiche ok ok si riesco a prenderlo in testa con a meno tre colpi perchè qui ce ne voglio un tre o quattro sarete già qualcosa oh vedete che ci vuole tre quattro colpi però almeno ho risparmiato un sacco di fatica e ciò e ciò e ho il coso pronto l'indumento lì si chiama il coso da pilota lì insomma quel coso che si pilota ecco lo lascio ce l'ho pronto eh ce l'ho pronto il cazzo perchè mi ha preso un altro vabbè ok non ti preoccupare sempre che non muoio e non ci cada vediamo un pochitino dove cazzo è finito ah qui sono i miei bene fa piacere questo sembra ecco non lo vedevo è difficile da prenderlo è difficile da prenderlo quindi faremo così non lo trovo non lo vedo cioè i denti niente faremo così alla vecchia maniera per un attico mentre lui fa lì potrei provare a fare così la vede brutta vediamo un pochino ok ok perfetto questo oh porca vacca mi ha fatto tutto un cazzo di colpo ok no 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 oh scusate ma cavoli a un certo punto questa è un'altra mi piacerebbe vediamo se c'era la che qualche misericolo quasi sprecata tutta questo coso vediamo un po' se c'è qualcuna granata per l'amor di dio questo niente questo niente vabbè andiamo avanti adesso faremo cos'è questo lo scafo vabbè andiamo ce la faccio ce la faccio ce la faccio mi preoccupate dove c'è se mi guarda un altro eh senza armi giuste è un cretino ce la faccio eh però se lo prendo non è un problema se lo prendo è un problema ok lo sto prendendo prima ti colpi devo prendere quest'altra arma ah ma c'è una questa è un'altra vabbè speriamo sia buona magari questa è meglio chi lo sa che sappiamo ok senta che se non si rompe ma quanto cazzo sei quarazzato questo animalo ora l'arma non è adatta ma dai questo sto per niente cavolo cioè veramente lo sto prendendo un sacco di volte ok andata andata non ti riscaldare brutto animalo si riscaldarsi uff uff fatica sono sicuro che si facesse in un altro modo eh però insomma e facciamo con questa questa è la sparachiodi mi sparaghi oh cavoli sei stata dura ovviamente è tutto danneggiato quindi non so dove andare vabbè andiamo di qua e infatti devo andare di là vabbè che cavolo dai sciù forza ce l'abbiamo fatta oddio andiamo un pochino andare un po' avanti poi ci salutiamo fate un po' di fail scusate ma avendolo mai visto ale ce l'abbiamo fatta oh un posto adesso siamo nell'atrio della torre cut dove ti trovi sto aprendo il cancello meno malo ma oh cavoli questa qui dovrebbe essere questa infatti si è ricaricata andiamo un po' a prendere la T10 perfettico vediamo se troviamo l'altra dubito a questo punto questo è sempre il mitra questo non è mitra altre cose niente abbiamo solo gli armi dell'alleanza insomma vabbè adesso faremo con queste qui è bello oh che bello ah tutta la spalaghi giusto mi sembra una grana roba come il scema arma però insomma sono bloccato bastardi mi devo entrare a riparo e ho anche poca energia perfetto no no ok top bellissimo top muorici ah ah c'è uno qua c'è uno qua ah 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 eh sì mi sono sempre piaciuto lo ammetto andiamo a prenderci altri municili visto che siano qua siano gratis eh le prendo io sapete ok perfettico andiamo pure ci salutiamo dai non so se l'ho fatto tagli avete pazienza ma eh devo ancora capirlo bene il gioco da questa mi dà una soddisfazione mi dà una soddisfazione mi li sfragheri tutti dai è bello insomma c'è tempo il potere stimolirci in atto che non mi sia tanto skill sa eh se si riscaldano lui mi piace perché sta fermo come un coglione e si va a prendere eh vedete mi ha sfragherato un sacco di colpi adesso si è mosso ha capito che li stanno sparando chi è salve lei è brutto e cattivo sa eccoci qua che faccio che si trovassi un medikit questi che qua servono io volevo ammazzare quello là è sparito vabbè eh ce lo ricorderemo così datemi un medikit che brutte cose ho visto no aspetta ma là che ci salutiamo che è meglio ma porca vacca vabbè ragazzi io come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate e per adesso vi saluto a Shiba ciao ciao